guarda ma che fatti asciuto fuori dalla casa? ma si pazza! ma che buoni! o dico per te che asciuto con la macchina? io ho messo là fuori ho messo un coppia di striscia e non ho provato proprio niente e sai perché che mi risposto? non lo sapete più niente!